Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un po' la lista delle prossime uscite in casa Asmo d'Italia, che colgo l'occasione tra l'altro per salutare e per ringraziare, perché iniziano ad essere, si va quasi sui tre anni di collaborazione, e vi faccio un po' vedere quali sono le uscite più interessanti, infatti hanno tutti i giochi veramente molto interessanti a vedere già qui dalla pagina principale, però andiamo a prendere un po' le prossime uscite, non andiamo verso magari dicembre, gennaio o comunque l'anno dopo, 2022, perché poi comunque sarà materiale per un altro video. Diciamo, andiamo a prendere le uscite magari di ottobre, e guardiamo magari se c'è qualcosa che potrebbe attirarci anche nei primi giorni di novembre. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Come possiamo vedere tranquillamente in alto, si va sul sito asmode.it e andando sul catalogo possiamo vedere tutte quante le loro uscite, divise ovviamente anche parti games e tipi di giochi, e poi andiamo qua su in cima cliccando su prossime uscite, spero che la webcam tra l'altro non averla messa un po' troppo grande, e abbiamo questo dove sto facendo il video, questo nuovo format è anche l'ambiente dove facciamo le stream di giochi di ruolo, giochi da tavolo e videogiochi su Twitch, e quindi ho detto, perché no, facciamoci anche direttamente questo altro format dedicato al canale YouTube. Allora, intanto vediamo la ristampa di Arkham Horror, il gioco di carte, famosissimo, spettacolare, bellissimo, per farvi veloci e brevi descrizioni, è un gioco di carte non collezionabili, quindi quello che trovate nella scatola e quello che c'è effettivamente, ambientato nei racconti di Howard Phillips, il maestro, lo zio, anzi il padre di tutti, e è un gioco di carte completamente cooperativo dove vivrete una storia, e ci sono varie espansioni che comprate e inseriscono nuovi capitoli, un po' come le case della follia, ma in gioco di carte. Tornando indietro, poi abbiamo un gioco che io sto tendendo da morire, che è Ankh, ed è un gioco, secondo me, veramente spettacolare dell'Akmon, che mi ricorda un po' Rising Sun, perché lo scopo del gioco sarà quello di usare le varie divinità dell'Antico Egitto, tipo il Dio del Sole Ra, pure Bastet, Sekhmet, Sobek, tutte quante le divinità più importanti dell'Antico Egitto, e dovremmo farci guerra per la conquista, appunto, del Vecchio Regno. Ed è un tipo di gioco veramente molto interessante, perché vi ho detto, ricorda un po' da vicino a Rising Sun, da dove c'erano le casate del Giappone che si facevano guerra, insomma, per prendere per il favore imperiale, o perché no, per ambire anche al trono imperiale. Quindi è molto veramente bello come titolo, perché ci sarà anche una logistica veramente molto azzeccata, e soprattutto anche bella, bella corposa. Andando avanti, vediamo Sherlock Holmes, consulente investigativo, gioco da fare in gruppo, ma che secondo me funziona meglio in solitaria, infatti mia moglie se le ha giocati tutti, l'espansione precedente era Jack lo Squartatore, tutti quanti in solitaria, e questa volta dedicata agli irregolari di Baker Street, che sono quel gruppo di ragazzini trovatelli, che aiutano Holmes nelle sue indagini, ed è un gioco veramente molto interessante, perché è bello cercare di capire cosa succede in queste indagini, ma soprattutto alla fine vedere con le domande dentro la busta se abbiamo risolto il caso, e se abbiamo fatto più o meno punti di Holmes. Quindi è anche interessante vedere se non solo siamo riusciti a capire se abbiamo risolto il caso, ma se l'abbiamo fatto meglio del maestro, dell'investigatore numero uno. Poi, insondabili, gioco che forse fra tutti è uno di quelli che mi interessa maggiormente, ambientato su una nave, ambientazione sempre, ormai i giochi di Lovecraft ne piovono due o tre il mese, e lo chiamano un po' il Battlestar Galattica dell'ambientazione di Lovecraft e Cthulhu, perché siamo a bordo di questa nave, siamo l'equipaggio di questo battello in rotta per Boston, Rhode Island, Providence, vi ricordate i posti del sommo, del sommo poeta Lovecraft, io ce lo leggerei per davvero, e in insondabili saremo l'equipaggio di questa nave, che ricorda anche un po' un Nemesis, e dovremo cercare di capire chi è l'impostore, impostore che potrebbero essere cultisti, che cercano di evocare divinità, oppure i figli di Dagon, quindi mezzi pesce, anfibi e cose del genere, e per questo appunto viene chiamato un po' il gioco che ricorda, molto da vicino, Battlestar Galattica, c'era da capire chi era il silone. Poi abbiamo un nuovo gioco di Harry Potter, per tutti quanti gli amanti della serie Time's Up, quindi comunque una variante di Time's Up in ambientazione Harry Potter, abbiamo il 15 ottobre, un gioco in ambientazione Pandemic System, che lo sapete, Pandemic non fa più soltanto roba legata alle pandemie, ai virus, alle piaghe mondiali, e cose del genere, ma fa anche ambientazioni differente, collegate a altri brand, altri marchi molto famosi, e questa volta ci porta a Northrend, in Wrath of the Leech King, appunto in questa variante, in questa espansione, completamente dedicata a World of Warcraft, o per meglio dire a World of Warcraft. Poi abbiamo Imperi Perle, spero di averlo pronunciato bene, che è la seconda espansione, quindi questa è direttamente un'espansione di R.S. Arcana, un altro gioco molto famoso, l'Asmode sta iniziando a portare in Italia anche romanzi, infatti li sto collezionando tutti, che tra l'altro sono tradotti bene, c'era qualcosa di strano a pensare, quando fa le traduzioni a Asmode, penso proprio di no, e questa volta è il primo romanzo, l'ultimo rituale, basato appunto sulle cronache, e sul gioco Arkham Horror, quindi parte ambientazione Lovecraft in generale, ma collegato al primo gioco, di cui vi ho parlato appunto all'inizio video. E poi abbiamo tantissimi antititoli, tipo Stella, comunque anche Party Game e Family Game, abbiamo Seven Wonders, un'altra espansione Architects, abbiamo Mysterium Park, che a me piace molto Mysterium, se vi ricordate ve l'ho anche portato sul canale, è quel gioco dove siete dei medium, e dall'altra parte un giocatore fa lo spirito, che vi deve cercare di far capire senza parlare com'è morto, quindi mostrandovi delle carte, e ricorda anche un pochino Dixit, se proprio dirsi voglia, perché comunque il tipo di gioco lo richiama molto fortemente, questa volta ambientato in questo Horror Park. Abbiamo ovviamente di Marvel Champions, varie espansioni, che è un gioco di carte, Allertau, per tutti gli amanti dei giochi vinicoli, o comunque logistici, in aperta campagna, Crime Zoom, per tutti coloro, come qua sopra, uguale per Sherlock Holmes, hanno voglia, e hanno particolarmente interesse, a investigare, fare da detective, quindi scene del crimine, e cose del genere, abbiamo un set di adesivi rimovibili, per Gloom Event, abbiamo un altro gioco di Harry Potter, a livello di Diquids, Exploding Minions, hanno fatto Exploding Kittens, non potevano non fare questo, Agricola, penso gioco famoso, sempre basato su, appunto, la gestione logistica di, terreni coltivabili, e cose del genere, un'altra nuova grande espansione, del Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo, della Fantasy Flight, che io adoro, lo adoro, veramente ti fa vivere alla Terra di Mezzo, come pochissimi altri, anche videogiochi, lo preferisco anche all'Otro, ho detto sinceramente, e questa espansione è Venti di Guerra, che ci porterà nelle pianure del Riedermark, e nell'intricata foresta di Fangorn, e poi vabbè, le rovine ovviamente di Dios Gilead, poi abbiamo The Queen's Gambit, e senza andare troppo avanti, vabbè, un altro romanzo, questa volta dedicato a Watch Dogs Legion, della Ubisoft, un altro gioco stand alone di Harry Potter, l'ascesa di Mangiamorte, ce n'è veramente tanti, di titoli di Harry Potter che stanno uscendo, e un gioco qua giù, che aspetto da morire, da morire, da morire, Talisman in versione Star Wars, e Talisman in versione Kingdom Hearts, che lo sto aspettando veramente tanto, perché Kingdom Hearts è uno dei titoli più belli, che si erano usciti su console, e poi andando avanti, abbiamo la testa di Mimir, che è un romanzo, della saga di Asgard, quindi ovviamente si parlerà di torre, e cose del genere, ristampe varie, di tutti i primi tre capitoli, della saga di Holmes, e poi il Var con il Vuoto, che è anche questo aspetto da morire, che è il primo romanzo tradotto in italiano, di un 4X, che sarebbe Twilight Imperium, che è un gioco che a me piace da morire, e come vedete il catalogo, è ricchissimo, in più ci sono altre uscite da definire, che ancora non hanno una data, al solito, ci portano 4-5 giochi al mese, se non di più, su Asmod Italia, e danno sempre un catalogo pienissimo, sempre, sempre, sempre attivo, in costante aggiornamento, e che non si ferma mai, quindi dateci direttamente un occhio, e io di questi giochi, spero di portarvi nel più possibile sul canale, per farci appunto cosa ne penso, fatemi sapere un po' qual è magari il titolo, che vi interessa di più, io sono interessato da morire, come vi ho detto a Dunk, Sherlock Holmes, insondabili, ai romanzi tutti, ma sono anche molto curioso di provare, per il sistema Pandemic, World of Warcraft, e l'espansione di Mysterium Park, per Mysterium. Ciao ragazzi, alla prossima!